La candidata a sindaco a Campobasso dei progressisti Maria Luisa Forte aveva lanciato l'amo nel corso della sua presentazione l'allargamento della coalizione fino a coinvolgere Pino Ruta, il candidato sindaco, di cantiere sindaco ma la risposta chiara e netta non si è fatta attendere. Noi riteniamo che le intese si facciano sulle idee, non si possano portare avanti mettendo su un manifesto elettorale tutti i simboli di un partito perché sarebbe un'operazione probabilmente molto semplicistica, riduttiva e probabilmente anche forviante per l'elettorato. Noi riteniamo che le intese si facciano su quelle che siano le idee programmatiche della città capoluogo. Ruta ritiene che l'Alleanza PD-Movimento 5 Stelle sia fittizia e che non tenga conto di una pianificazione coerente dell'idea di città capoluogo. Certi argomenti da che parte si sta, non si può stare contemporaneamente su argomenti centrali da una parte e dall'altra cioè sui trasporti per esempio, sul discorso del Roxy, sul discorso del patrimonio pubblico e della tutela pubblica anche sul discorso sanitario e della sanità, cioè quindi sulla tutela della salute non si può stare da parte di chi ha smontato la sanità pubblica e poi contemporaneamente dire siamo per la sanità pubblica non si può stare da chi dice siamo per la tutela del Romagnoli e poi stare di fianco a chi ha fatto il master plan prospettando chiaramente la cementificazione dell'area dell'ex Romagnoli con 35.000 metri cubi perché questo in realtà diventa incoerente. Con chi la si vuole fare questa battaglia? Le dichiarazioni della candidata sindaca che dicono io voglio tutelare e voglio in qualche modo preservare l'area del Romagnoli ma con chi la vuole fare? Come candidato sindaco, stando di fianco all'ex sindaco in continuità con Di Fabio che ha sottoscritto il master plan con Iorio e con Vitaliano per dare luogo alla più grossa opera di cementificazione del centro cittadino. quella verso la quale noi ci siamo opposti dieci anni fa con comitati civici e anche con associazioni di consumatori annullando il master plan dinanzi al Tar Molise e salvaguardando il centro allora bisogna essere chiari su questo anche nei confronti degli elettori.